Si è concluso qualche giorno fa a Matera il 42esimo congresso nazionale dell'Andaf, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. Una due giorni intensa in cui il tema è stato la cultura, valore per l'economia e guida nell'evoluzione dei modelli organizzativi e di sviluppo. La testata giornalistica di Sud Italia Video ha intervistato Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo, il cui intervento di chiusura è stato Matera, capitale europea della cultura. Immaginiamo gli effetti economici di un'Italia capitale mondiale della bellezza. Ci tenevo molto a dire appunto ai direttori finanziari e amministrativi, quindi tutti i soci dell'Andaf venuti a Matera, quanto sia importante investire nella cultura come generatore di ricchezza, non soltanto per lo spirito ma anche per i portafogli, diciamocelo chiaramente, senza tante ipocrisie. Quindi lo abbiamo visto in un confronto internazionale con altre città europee. Tutte quelle che hanno investito in cultura hanno migliorato l'occupazione, hanno migliorato le presenze turistiche, hanno migliorato il reddito di chi vive nel territorio. Come si posiziona Matera e quale può essere il futuro di Matera? Matera ha già fatto un salto enorme, soprattutto dal 2014, quando è stata disegnata capitale europea della cultura. Il dato del 2018 è il doppio in termini di presenze turistiche rispetto al 2014. Il 2019 prevede circa 800.000 presenze turistiche rispetto ai 500 e passa del 2018. Io credo che possa essere fatto ancora di più, con più calma, senza l'urgenza della capitale europea della cultura, quindi senza i riflettori di tutta Europa, investendo in un insieme di attività che non sono soltanto quelle turistiche, ma vanno dal set di produzione cinematografica, su cui ho sentito ci sono moltissime iniziative, ad altre scuole, dal restauro, al design, al far vedere a chi viene da fuori che cosa significa vivere a Matera e perché è bello vivere a Matera. Questo credo che possa portare grande ricchezza. Un altro tema, ecco, che stavo dimenticando, può essere anche quello del turismo sanitario. Venire a curarsi in una città come questa, naturalmente hai bisogno poi di strutture adeguate, di strutture all'altezza per accogliere il paziente tedesco-francese che decide di fare una convalescenza in una città così bella e così affascinante. Nel suo intervento un focus specifico sulla potenzialità delle imprese culturali e creative? Sì, sono 120 imprese che noi abbiamo intervistato, tutte vogliono crescere, tutte vogliono investire, abbiamo anche chiesto perché non può essere sempre tutto bello, quali sono i fattori di ostacolo e principalmente c'è la burocrazia, l'incertezza sui finanziamenti pubblici e la disponibilità di personale qualificato, quindi il capitale umano. Allora, tra le cose da fare certamente è importante quello di investire sui giovani, quello di formare, di avere una formazione adeguata che va dalla tecnologia al cameriere, a chi lavora come operatore turistico per offrire un servizio veramente adeguato, un servizio di eccellenza e quindi un servizio pari all'eccellenza che abbiamo nella città. Dopo il 2019, tre obiettivi da raggiungere? Io direi non soltanto come presenza turistica, è un dato importante ma è un dato parziale, credo sarebbe importante avere un turismo un pochino più lungo, che non assomigli ad un'escursione a Matera di due o tre ore in cui si fa qualche fotografia o qualche selfie, ma offrire un'esperienza, cioè convincere chi viene a stare qui due o tre giorni, una settimana. Per farlo devi mettere insieme un pacchetto che non consideri probabilmente soltanto la città di Matera, ma anche dei meravigliosi comuni limitrofi da Craco, Montescaglioso, Miglionico, Tricarico e così via. Sicuramente ne ho dimenticato qualcuno di importante, chiedo scusa se non li ho citati, però l'esperienza Lucania credo che possa arricchire e dare tante belle cose non soltanto d'estate ma anche nelle stagioni intermedie. Grazie. Grazie.